a Monza parlava Giancarlo se non sbaglio che ha testato forse uno o due giri ma che insomma si è reso conto che ha problemi di instabilità soprattutto in frenata quindi questo è un altro argomento molto interessante per far crescere un attimo l'hype di quello che è l'attesa dell'ultima del campionato il campionato Formula 1 1991 ricordiamo organizzato da simdrivers.eu in collaborazione con state guardando su dall'inizio di questo video SCR Component ovviamente ASR Formula di Alessandro Michali che ci fornisce questa mod il 3D Rap che non ha bisogno di presentazioni il gruppo Renegade di Peppe Galofro che ci ha fatto compagnia durante le live e ovviamente ci supporta come gruppo e poi GS Racing che offre il premio che va tra poco perché dovrebbe partire in settimana a Gara Marco appunto il circuito retroilluminato e poi la NECS che offre un accessorio una felpa se non sbaglio se non mi ricordo male più ovviamente poi dobbiamo ringraziare il nostro Dario Todisco che ci stamperà le coppe 3D per i vincitori dei piloti e delle squadre eccetera più poi ci sono dei buoni eccetera eccetera quindi parliamo di Monza per il campionato Gentleman e normalmente non vorrei anticipare però dovrebbero esserci anche 2-3 protagonisti della categoria Pro che dovrebbero intervenire in un'intervista un altro giorno allora Giancarlo diceva che aveva provato qualche cosina in stabilità su Monza quale potrebbe essere la strategia quindi ragazzi qua perché quello che vogliamo capire perché Monza è una pista veloce però sappiamo che questa è una macchina che diventa instabile parlava della Scari proprio Giancarlo ma anche la prima curva in frenata in uscita quali sono le vostre sensazioni così pure se non avete magari troppo provato qui bisogna rischiare non rischiare Marco tu devi andare io devo cercare di vincerla sperare un po' rischiare perché tanto non è che non ho quasi più nulla da perdere capito quindi devo andare provare a dare il massimo e sperare che la macchina rimanga in pista senza andare a muro però bisogna un po' rischiare secondo me Monza è l'ultima e bisogna andare fortissimo sì non avere il rimorso di dire cavolo però no 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 andare forti e cercare di vincere cioè nessun nessun rimpianto via niente io per me è così questa per me è così proprio andare e a quanto più ne ho e sperare di rimanere visto basta Massimo invece ha detto che lui si metterà dietro il il più veloce e cercare dietro la safeticar dietro me stesso dietro me stesso ah che vita grande è giusto cioè la mentalità è questa cioè voglio dire no beh dietro me stesso al più veloce no eh no eh l'importante è il primo giro i primi due giri e poi come dice Marco andare 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 però i primi due giri e soprattutto partire all'esterno se allora che sarebbe meglio vi ricordiamo quanto ritornando alla domanda di prima eh 26 mi sembra 26 a Monza ragazzi sono tanti allora io ho una domanda per voi tre ovviamente ehm anzi sono due in realtà la prima è allora di questo campionato cosa vi è emozionato di più a parte quello che vi avete detto che vi siete trovati bene eccetera però a livello proprio di competitività di sportività di bla di circuiti c'è cose che vi emoziona c'è che dice che vi fa posare il sedere su quella su quella postazione e dire cavolo stasera c'ho il 91 che figata voglio farlo perché cos'è Marco sì è perché provi davvero queste emozioni forti la mia vita mi dà questa sensazione quasi come un pilota vero cioè aspetti quella sera lì per sedere appena ti siedi ti viene già c'è il caldo senti mi stai capendo proprio io sento la tensione davvero io la sento come non so come si sente in una gara vera ma io ti posso garantire che la sento e mi piace quella sensazione di sfida di competizione in più questa macchina è bellissima da guidare è una godura l'adrenalina stai parlando dell'adrenalina che sale piano piano bravo bravo ma si sente negli occhi che si illumina negli occhi di Marco e quindi è immersivo in tutti i sensi bello 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 a me dall'inizio mi ha subito coinvolto tantissimo bello 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 molto bene sono contento di questa cosa qua Massimo anche a me anche a me è molto coinvolgente molto emozionante a dire la verità perché mi ricorda quando andavo a vederle negli anni 90 le Formula 1 di allora e c'era la pelle d'occa quando le vedevi davvero e oltretutto ho avuto la fortuna di averle viste a Spa nell'88 e nel 90 all'Aurouge proprio ho avuto la fortuna di avere dei biglietti paddock o comunque quando si poteva averli anche vabbè da amici e quando corro così quando corro col simulatore naturalmente mi piace mi piace molto e pensare di vivere in qualche modo quelle emozioni come se fossi su una vettura vera cioè ti cominci a rendere conto di più correndo con queste vetture con queste con queste mod di cosa sarebbe stato guidarle dal vero a quei tempi bravo perché poi quando noi andiamo quando noi guidiamo così sì ci divertiamo e ci emozioniamo però quando andiamo a muro poi siamo siamo imprechiamo e va bene poi facciamo quella dopo però se pensi 30 anni fa anche adesso ma 30 anni fa era diverso perché se guardi come erano come andavano e poi va bene il rumore bellissimo il rumore e la sensazione delle ritorno di forza che c'è è spettacolare è spettacolare guarda anche io condivido per me il binomio auto e piste è stato molto bello ed è molto bello in più il sound io metto le cuffie per questo mi piace giocare con le cuffie silenzio un po' lo nano per sentire il sound per sentire il sound dell'auto che è qualcosa di magnifico e ti restituisce devo dire che anche la scelta del simulatore è stata molto buona perché tanta roba anche a livello di quello che ti trasmette sul volante che è l'unica diciamo cosa che noi riusciamo a sentire perché per far entrare un po' di vento devo aprire le finestre e il balcone per far corrente ed il resto questo auto piste sound fantastico veramente ti medesimi ti cali in quegli anni e ti piace proprio che a un certo punto ti viene proprio voglia che non smetteresti di guidare quindi stai lì guidi guidi poi ad esempio personalmente a me mi piace più inseguire che essere inseguito quindi quando c'è qualcuno davanti allora lì mi piace mi piace molto diciamo cercare di raggiungerlo ma molto bello molto molto bello tutto lo stesso io dove ho avuto vai prego vai scusa già Carlo no 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 ho avuto maggior soddisfazione di essere riuscito ad aver terminato Monte Carlo perché erano 48 giri e le poche volte che avevo provato Monte Carlo prima di partecipare a questo campionato ma facendo così dei giretti così con mio figlio ma proprio non riuscivo proprio non mi veniva sì e aveva terminata nonostante un po' di erro anche così però terzo comunque terminata 48 giri è stata brava io credo che molti di noi non hanno mai terminato Monte Carlo per me è stata la prima volta di portare una gara a casa a Monte Carlo raga io la stessa domanda la rivolgo a Pino Pino cos'è che ti emoziona di questo campionato che ricordiamo Pino è il fautore materiale insieme a tutto lo staffo però attenzione Pino lo tiene il campionato nelle mani tutto quello che classifica statistiche tutto il lavoro dietro l'organizzazione il regolamento l'interpretazione poi deve avere a che fare con me ragazzi io non è che sono un uomo facile molto esigente ma qui dobbiamo facciamo lì molto paziente quindi lui lo vive sia come organizzatore poverino ma come pilota quindi io quello che mi interessa Pino poi vediamo organizzatore vedremo dopo ma come pilota cos'è che ti fa emozionare stare seduto lì a te guarda se ti riferisci proprio alla macchina a questa no il campionato il campionato cos'è del campionato può essere la combo può essere non so l'hype può essere quello che vuoi per me è sempre comunque è sempre un confronto con me stesso in primis cioè nel senso che ogni volta che metto lì devo cerco di migliorare facendo risolvere quello che è successo nelle precedenti occasioni mi piace rapportarmi con tanti piloti che ci sono in pista e dunque confrontarmi con loro mi piace molto farmi il mio setup cioè questa macchina c'è ho imparato ho imparato diverse cose nel tempo su come funzionano le dinamiche di un setup ho capito come applicarle su questa macchina anche con l'aiuto di altre persone ci siamo confrontati sui diversi dati poi rimango comunque sulle mie idee perché la macchina devi sentire tua tu vada piano vada veloce io sono sempre dell'avviso di avere una macchina con cui ti senti confident come dicono gli inglesi a volte questo connubio riesce tipo nell'ultima gara che ho fatto a Spa devo dire che ero molto contento del setup che ho creato e altre volte riesce meno comunque mi ci piace dedicare il mio tempo cioè io ok adesso mancano dieci giorni ma io sto già lavorando comunque su Monza a capire un attimo come funzionano i miei meccanismi quali parametri so che devo andare a toccare a rivedere e sai bene che io comunque i miei giri sì è vero ne faccio il minimo previsti su quelli dal regolamento poi ne faccio non dico quanto Marco che veramente esceglie fin troppo però poi su altri canali diciamo che io testo la macchina faccio le mie sappiate che io ad esempio il venerdì il giorno della gara io il venerdì pomeriggio faccio una simulazione completa proprio per verificare che la macchina risponda se c'è da correggere qualche cosa si corregge difficile che io cambia qualche cosa quando inizia la sessione delle pratiche poi delle qualifiche non cambio più niente perché non non hai il tempo materiale per capire in effetti se porta benefici o meno mi piace mi piace il contesto mi piace l'atmosfera mi piace appunto la comunità sapere che corri con altre persone con cui dopo ti confronterai a fine della gara mi piace sentire di vedere la live e sentire Fabrizio che ci commenta sopra a suo modo sono tutte cose che comunque sono una ti gratificano insomma e ti senti parte di un qualcosa condiviso con altri sono piccole cose però bisogna imparare anche a a essere contenti a godere e felici di queste piccole cose capito questo è molto importante non c'è bisogno di raggiungere chissà che ma io cambierei la linea l'età forse mi aiuta vero Massimo nella giornata in questo modo per cui sì magari più giovane Marco è più giovane sicuramente dunque no no i magazine la live io cambierei il commentatore il commentatore il commentatore è stato già taggato mi sembra sul giornale in maniera adeguata è il nostro Vanzini tra un po' dire pure ruota ruota oh ragazzi mi sono autoflagellato sul magazine scorso ragazzi io di fare così tra le gufate e che non vedo i duelli epici vabbè io epiche battaglie epiche battaglie allora ho un'altra domanda per per voi tre cosa cioè con il senno di poi cosa cambiereste nelle vostre scelte in questo percorso del campionato d'accordo non non c'è bisogno di per forza fare il dettaglio eccetera però sinteticamente cosa cambieresti ma lì avrei messo le dure le morbide o lì sarei stato più concentrato non lo so quello che volete ovvio tutto quello che è fortuito non dipende da voi parlo proprio del vostro campionato delle vostre scelte personali a voi cosa cambiereste in questi sette gare ricordiamo che ne rimane una Marco ma cosa cambierei a livello di setup della mia macchina no 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 del tuo comportamento delle tue scelte può essere una manovra può essere un setup può essere quello che vuoi cosa cambierei ma per me è andato molto bene quello che ho fatto cioè io cambierei forse cosa ne so a Istanbul dove mi ha dove ho scoppiato il motore e lì cosa cambierei avrei lasciato il radiatore forse un po' più aperto sì sì io non cambierei nulla tu non cambierei se ve l'ho detto cosa avrei cambiato ma probabilmente bastava cambiare le impostazioni come dice Pino giustamente qui era praticamente un messaggio il resto era tutto ok le gare erano belle quindi a parte la Iella erano sempre in posizioni buone stavo andando veloce quindi non cambierei nulla nulla perfetto quindi non cambierebbe nulla il nostro Marco Podda allora io andrei da Massimo Cirelli Massimo Cirelli perché io sono curioso tengo la tensione alta perché Giancarlo dietro le quinte mi ha detto eh poi ti dico allora Massimo tu col senno di poi alla settima gara cosa cambieresti del tuo tagliato l'approccio alla preparazione alla gara d'accordo cosa che piano piano è perché la qualifica non l'ho mai provata come si deve e anche le partenze non l'ho mai provata tantissimo ah una missione di colpa una missione di colpa del nostro Massimo Cirelli attenzione attenzione che era il titolo a non tecarlo quindi quindi cambierei e sto cambiando in quel senso lì poi dipende dalle settimane come diceva Giancarlo che puoi avere più tempo altri meno tempo o magari ci sono delle settimane che pur avendo tempo non segui un metodo corretto di cambiare una cosa alla volta invece vuoi far di più pensando che vada meglio invece poi dopo non è così poi mi è venuto in mente in ogni caso è stato un percorso diciamo di crescita quindi perfetto piano piano sto cambiando questa tua risposta mi ha fatto sorgere un'altra domanda da farvi per voi tre ovviamente Giancarlo sono curioso di sapere cosa cambieresti del tuo campionato amico mio vai io cambierei hobby no no sto scherzando no diciamo che a me nel corso di questo campionato è dispiaciuta una gara in particolare il Mugello il Mugello mi è dispiaciuto molto perché stavo andando molto molto veloce e nell'ultimo giro avevo tre quattro decimi ho sbagliato la staccata all'ultima curva che mi ha fatto perdere tutto altrimenti lì avrei guadagnato la polla quella mi è dispiaciuta e poi la strategia di gara che ho fatto è stata proprio errata ma lì è dovuta alla mancanza di esperienza e di questo simulatore Refactor 2 e di quest'auto quindi perché sono partito non con le soft non ho creduto nella nelle nelle soft quindi cambiando mescola mi sono trovato molto molto in difficoltà le gomme si sono riscaldate molto e diciamo mi hanno fatto girare mi hanno fatto innervosire quella è una gara che cambierei però ormai è andata come è andata forse in un prossimo campionato dovendo poi si vedrà che tipo di auto dove la categoria che cosa si farà per quello che mi riguarda dovrei arrivare un po' più preparato a quella che è la conoscenza dell'auto e poi ad esempio non provo mai la gara io non la provo cioè mi scoccia durante la settimana metterti lì e fai 25 26 giri provo sempre 12 13 14 vedo che la benzina super giù è sempre la stessa vedo che la macchina sta bene e poi partiamo in gara vabbè ti giochi il 50% di possibilità in realtà esatto poi mi gioco la dose la dose di culo diciamo però il jolly già me lo sono giocato all'ungarling quindi è a rischio tuo contrariamente a quello che fa Pino invece che lui si fa una sessione di gara per vedere se tutta la macchina va bene e tu Pino Pino cambieresti qualcosa tu ricordiamo che Pino è nella categoria pro non è che nella categoria genna però con noi giustamente cosa cambieresti tu Pino nel tuo campionato guarda sinceramente devo essere veramente sincero nulla mi è dispiaciuto solo che al Mugello ha avuto quella rottura del motore proprio sì 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 perché ogni tanto l'ho fatto randomicamente ok è toccato a me e lì mi è dispiaciuto nessuna perché il mio obiettivo è sempre di portare la macchina al straguardo a prescindere dalla posizione poi è chiaro in un paio di gare sono stato diciamo oggetto di incidenti Barcellona sì Barcellona Istanbul ok fanno parte comunque ho imparato che fanno parte del gioco delle corse e dunque ok impari ad accettarle e dunque però dopo vedi anche a Istanbul la macchina distrutta sono riuscito a rientrare in box senza creare problemi e ho continuato sono arrivato ultimo di quelli però i punti li ho presi cioè non mollo mai da quel punto di vista lì ecco solo il motore roto mi ha fermato dunque per il resto mi dispiace solo per Mugello perché non ho portato i punti la stessa gara che poi se ti ricordi il mio compagno di squadra Gianni Rizzo proprio a tre curve dalla fine anche lui il motore mi ricordo bene che aveva il motore perché quei punti per noi adesso li paghiamo carissimi perché magari potremmo aspirare a un terzo posto nella classifica team e invece adesso siamo siamo non dico tagliati fuori insomma devono succedere troppe cose per poter affinché questo succeda però ripeto fanno parte delle gare dunque oggettivamente essere sincero non cambierei niente il fatto che poi di gara in gara si migliora significa che comunque qualcosa in più hai assimilato e riesci a rendere meglio fondamentalmente sono soddisfatto di quello che sto facendo quindi fondamentalmente quasi tutti non cambierebbero a parte l'approccio alla preparazione delle gare come diceva Massimo quindi vuol dire che l'esperienza globale che state avendo fino adesso in queste sette prime gare di questo campionato vi soddisfa pienamente e questo ci fa veramente piacere soprattutto per Marco che è quello che ne ha subito di più dalla sorte e questo comunque quello che vi accomuna a tutti a parte la passione la simulazione eccetera eccetera è che in questo campionato comunque riuscite a ritrovare una certa trans agoristica tale che vi porta a un livello di concentrazione che è pari ad un livello di divertimento molto alto e questo è una soddisfazione per la nostra comunità ovviamente e proprio su questo argomento qua vorrei dire ragazzi ma quando siete tipo Giancarlo diceva a me piace inseguire giusto Giancarlo mi dicevi così sì sì quando è che entrate nel trans agonistico cioè quando tutto è automatico cioè se avete arrivate al che ne so dodicesimo giro sentite le gomme siamo a Spa lo Rouge la prendo vi dico cavolate la prendo in quinta sto accelerando al 75% poi gas a martello arrivo alla prima scalo due marce giù bam 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 e riuscite a stampare quei giri e non pensate più a niente e siede in un altro mondo io ho quella situazione diciamo psicologica così no di concentrazione ce l'ho di mio in ogni partenza che sia che sono primo che sono magari dietro di un po' di posizioni riesco subito a trovare quella concentrazione capito so già mi sento preparato e pronto già ad affrontare cioè io quello che so fare lo so fare da subito e riesco a tenerlo per quei giri là capito poi certo cioè fino alla fine fino alla fine sì 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 poi certo se vado a rischiare un po' certo vai a rischiare rischi di uscire e di fare danno però io dico quella concentrazione là ce l'ho dall'inizio non sento la pressione ecco non sento la pressione riesco a concentrarmi e a mandare avanti la gara d'accordo che grande capacità non sento la pressione un parolone no no non la sento anche se ce l'ho detto riesco a tenere concentrazione io anche se uno ne ha di più mi supera allora ok ma io il mio ritmo lo tengo capito cosa voglio dire non è che non sento la pressione ma non hai mai fatto errori pressato da qualcuno no io se mi vedo andando un po' male perdo due meglio rallento un pelo ma cerco di tenere il mio poi può succedere a tutti però dico io c'è gente che appena si trova uno dietro proprio perde il filo perde il filo e perde il ritmo io quel ritmo che ho riesco a tenerlo perché quasi quasi metto i parauchi quasi quasi mi vede a non guardare neanche gli specchietti questa è la cosa che ho imparato a fare a me se sto a guardare dove è quello dietro a destra a sinistra già mi deconcentro io faccio il mio ritmo e poi se uno ne ha di più che mi superi capito questo riesco a tenerlo dalla partenza subito capito massimo poi è naturale che se uno ne ha di più mi superi ciao finisce tutto ok a me è capitato due volte ripeto ancora sono un po' repetitivo però per me è stato tutto un percorso di crescita però Mugello è stata una gara dove dovevo inseguire perché c'è stato un episodio al primo giro poi anche il secondo eccetera dove dovevo inseguire lì veramente non non pensavo a nulla se non a guidare al meglio e tant'è vero che ero arrivato con le uome al 2% ed ero riuscito ad arrivare alla fine proprio cioè mi ero divertito ed avevo dato tanto comunque no come dicevi tu diciamo una sorta di trans agonistica chiamiamola così una sorta ecco quello che l'altra invece all'opposto è stata quella di spa dove ero molto tranquillo dove non andavo oltre il mio limite perché stavo molto attento a non non consumare troppo le gomme non fare errori che non ne ho fatti e quindi questi sono stati due episodi due episodi opposti uno inseguivo è vero anche spa ho avuto la fortuna alla fine di arrivare primo per per quello che è successo a marco eccetera però durante la gara intanto è vero che ho superato Vincenzo poi dopo avevo ottenuto il mio passo e chi c'era dietro non riusciva a prendermi ecco ottimo ottimo nonostante ero secondo terzo quando quando questo si è verificato Giancarlo a me dipende tanto dalla concentrazione che e dagli eventi soprattutto che capitano in gara se mi posso gasare tanto per un sorpasso tanto per una qualifica fatta bene tanto per una partenza fatta bene mai quindi parto sempre male però ad un certo punto della gara quando inizio a vedere che metto l'auto dove voglio inizio a girare costante entro proprio in quella fase mi gaso capito da solo magari anche se vado piano però in quel momento per me sto andando velocissimo e cerco di non sbagliare cerco di sbagliare il meno possibile a volte ci riesco a volte faccio qualche distrazione di troppo come mi è capitato questo è dipende dagli eventi che accadono in quel momento perché poi ti fanno spingere un po' di più e un po' di meno magari qualcuno si ferma al pit quindi tu ti inizi a pensare io qua lo devo superare un undercut un overcut che cosa faccio dipende da queste circostanze allora abbiamo concludo con questa intervista io vorrei ringraziare Pino Sciotti che mi ha fatto compagnia questa sera Giancarlo De Caro Marco Podda il grande Massimo Cirelli e come vedete si è aggiunto un intruso si chiama Ramon Ramonciti che noi adoriamo e come di consueto su ogni fine video di SimDrivers io vi invito se il video vi è piaciuto a lasciare un pollice in su lasciate un commento e non esitate ad iscrivere il canale tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo l'appuntamento è per giovedì 16 alle 21.30 per la finalissima del campionato Formula 1 1991 categoria gentlemen ovviamente il giorno dopo il 17 sarà anche la finale per il campionato pro noi ci vediamo prestissimo normalmente un'altra intervista con due piloti anzi tre piloti pro protagonisti appunto del campionato grazie per averci seguito noi ci vediamo prestissimo da Fabrice e gli amici è tutto ciao